Allora ragazzi, molti utenti nuovi, poco esperti, spesso sbagliano nel postare i video sul forum. Quindi adesso vi illustro velocemente un po' come si fa il metodo preciso per non sbagliare e non incorrere in provvedimenti disciplinari appunto sul forum. Allora intanto bisogna uppare il video, il nostro video o le nostre foto a secondo del post che vogliamo fare. In questo caso omettiamo che volete uppare un video, quindi nella zona video celebrità o video semi celebrità o altre zone del forum alle quali potete accedere. La zona hard, le monografie, mettiamo come esempio la zona video celebrità che è la zona diciamo principale. Quindi entrate, intanto bisogna aprire una nuova discussione. Il titolo, il titolo deve essere scritto bene, molti scrivono tutto in maiuscolo, tutto in minuscolo, no. Mettiamo caso, no. Sempre come esempio. Iniziali del nome e del cognome maiuscolo e il resto minuscolo, tipo esempio. E poi bisogna specificare la performance della celebrità e la data, tipo che ne so. Chiaro? E con il titolo ci siamo. L'umore del thread non è obbligatorio, potete anche non metterlo. A questo punto servono le preview perché il video sarà rimosso se non contiene preview. E cioè la possibilità per chi deve scaricare di vedere cosa deve scaricare prima di scaricarlo. Come si fa a fare le preview? Ci sono molti riproduttori multimediali. Io in questo caso ho VLC Media Player. Io ho il Mac, ma VLC Media Player può essere utilizzato anche su Windows. Quindi si va ad aprire il video e con VLC si può tranquillamente scattare delle preview. Se ne può fare una o più di una. Ed eccola qua. La cartella che dove VLC salva le preview si può andare a scegliere noi. Andando nelle preferenze appunto di VLC vedete qui si può scegliere la cartella dove il programma deve salvare le nostre caps e possiamo scegliere anche l'estensione JPEG o PNG. Ma come detto io per Windows vi consiglio GOM Player è il migliore. O VLC, scusate, o Media Player Classic che fa anche le preview, le multi preview postabili poi. E così diciamo che la nostra anteprima è fatta. Adesso dobbiamo uppare la nostra immagine. Io consiglio imagevenue.com che è l'host server diciamo più utilizzato, anche il più sicuro. Quindi si va a prendere la preview che abbiamo scattato e la uppiamo selezionando il contenuto e il formato della tumb e poi la uppiamo. Il codice da incorporare nel forum è questo. Lo copiamo cliccando CTRL G CTRL C e poi lo incolliamo cliccando CTRL V e gli utenti MAC non è CTRL ma è COMMAND. Adesso a questo punto dobbiamo uppare il video stesso, il video. Io vi consiglio fortemente Megapload perché è il server di sharing a mio avviso più sicuro e anche più duraturo, più longevo. Non dovete fare altro che cliccare sfoglia andare a cercare il vostro video sul vostro pc mettere inserire una descrizione e cliccare invia. Alla fine il Megapload vi genera l'URL che non dovrete fare altro che copia e incollare qui sotto nel forum e poi alla fine cliccate inserisci e avete finito il vostro post sul nostro patatina VIP forum. Se avete dubbi non mandate messaggi privati aprite un thread sul forum nella sezione problemi e suggerimenti ed edit immagini e video. Aprite qui una nuova discussione e chiedete chiarimenti qui. Ok? Ciao!